Il tempo si sta mantenendo bello Non è tanto caldo Quindi attendiamo tanta gente Chiaramente arriveranno un po' più tardi I gruppi sono molti Abbiamo visto i rari ramari rurali Acqua Ramata, Ciampano e Ghianda Che sono passati adesso Cane Bianco, Borghetti, Bugaran Band E Brigata Lupatelli Li ascolteremo tutti questa sera E vuoi ringraziare qualcuno? Bisognerà sicuramente ringraziare Tutte le associazioni che sono date da fare Per organizzare questo evento Bisognerà ringraziare tutti i gruppi Che sono venuti gratuitamente E hanno saltato anche qualche impegno E ringraziamo anche gli organizzatori Che sono quelli che non si vedranno suonare Si vedranno dietro Però sono quelli che hanno scritto Hanno programmato In particolare voglio ringraziare Il mio amico Flower Perché lui è quello che ha riunito Tutti questi gruppi Quindi tutti ci hanno messo il cuore Per la realizzazione di questo festival Esatto Tutti ci hanno messo il cuore La passione Perché il nostro dialetto Ci fa appassionare Insomma non lo vogliamo lasciare Il nostro dialetto Ti ringrazio Ciao tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti